Musica Cazzo di prendi Musica Andiamo a costare dei materiali per pulire la zanna di casa Musica 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 Meno riprese aiutami a portare la borsa che pesante Musica Stiamo andando a Carmagnola a comprare delle piante per la zanna di casa Visto che i corsi iniziano tra poco e non possiamo insomma avere una sede sguarnita di piante Vivaio da veli di Carmagnola Hashtag sponsorizzata Musica 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 Riempiremo la macchina di fantastiche piantarelle Musica Musica Marco Marco ma ti piacciono i fiori? Musica Infatti ero andato da psicologo Davvero? Perché avevo risposto sì Musica — Ma per favore Musica Musica Mi piace qua — Ma per favore — Mi piace due Mi piace quasi un kilo tipo Musica 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 Grazie a tutti.